Musica Bella raga, bentornati con il vostro Mr. Rollo su Football Manager Club con il mitico Sassuolo, come dicono in Emilia Romagna ragazzi nel caldo infernale di Roma invece sto qui nella mia stanza a farvi questo spettacolare video perché oggi ci facciamo un'altra tripletta eh sì ragazzi, in casa col Cagliari, in casa col Brescia e la trasferta a Genova contro la Sampdoria tre partite dove possiamo ottenere dei punti a mio avviso però c'è un problemone, ovvero ci sono stati 15 giorni di nazionali e cosa succede quando ci sono le nazionali? Facile Si è infortunato uno dei miei giocatori più importanti col Marocco Sofiane Bouffal, quella alla sinistra però sta tornando politano per fortuna è tornato politano ma Bouffal si è infortunato per quattro mesi ragazzi ed è veramente una brutta perdita visto che Malcom non siamo riusciti a registrarli ora ragazzi miei ci vediamo immediatamente lunedì 21 ottobre quindi dopo le nazionali Sassuolo Cagliari Mitigante prima di Sassuolo Cagliari amici miei leggermente favoriti secondo Intervetten altalenante condizione recente la nostra arriviamo da quella sconfitta purtroppo con l'Inter l'avete vista immeritata 2 a 1 non brutta abbiamo giocato bene ci meritavamo molto di più però abbiamo perso ok per il Cagliari la condizione recente incontri precedenti io non ci ho mai giocato contro il Cagliari da quello che mi ricordo infatti nelle ultime partite col Sassuolo della scorsa stagione però il Sassuolo ha perso due volte quindi Cagliari bestia nera Rolando Maran è il loro allenatore punti di forza a formazione usate ha portato una media di 3 occasioni in più rispetto agli avversari nei 90 minuti giocati usando la formazione 4-2-3-1 larga negli ultimi due anni mentre potenziali punti deboli condizione del miglior giocatore ovvero la valutazione media di 6-53 ottenuta da Pavoletti lo piazza solo in 232esima posizione tra i giocatori del campionato malissimo quindi inizio alle 20-30 ovviamente al MAPE Stadion di Reggio Emilia 12.200 biglietti su 21.500 campo ok non in perfette condizioni quindi solo ok 14 gradi sereno va bene per giocare l'arbitro è Marco Guida in 4 partite dirette nessuna espulsione 15 ammunizioni formazione non guardiamo la classifica perché adesso non ci interessa però possiamo lottare per un posto in Europa già ve lo dico questa è quella scelta da me in questa partita poi giocheranno altri successivamente con Magnan in porta ancora lui e non consigli perché voglio dargli un pochino di partita e un po' di fiducia ma qui a destra Bastoni Ferrari Barreca e non Spinazzola stessa cosa stesso ragionamento che faccio per Magnan Duncan davanti alla difesa con Locatelli e Semedo torna Semedo a destra Berardi a sinistra Di Francesco non Politano perché appena rientrato dall'infortunio lo facciamo giocare alla prossima De Tomas unica punta e non il ragazzino Haaland che ha fatto parecchie partite con la nazionale quindi voglio un attimo lasciare a riposo Politano è rientrato come detto infortunato Musa Barro ah ecco che sta comunque in panchina tornerà domani può giocare ma per lui leggermente claudicante Demirala a questo punto lo mettiamo in panchina visto che sono indisponibili tre giocatori tra cui Malcolm non registrato come vedete Bufalla per quattro mesi mamma mia guardate che roba è Polirola lo sapete benissimo tre mesi quindi tornerà prima di Bufalla vabbè lasciamo stare adesso formazione Cagliari Cagliari che si schiera con un 4-4-2 a rombo come vedete con Cragno in porta Cern Cepitelli Clavan Carciatore in difesa Bratelic con Castro e Ionita i due centrocampisti i centrali Gio Pedro trequartista dietro a Cerri e Pavoletti Cerri lo conosco bene per via della carriera che sto facendo con la Cremonese andatelo a vedere mi raccomando ora spogliatoio immediatamente andiamo a fomentare questi ragazzi parla la squadra è energico abbiamo un conto aperto con il Cagliari e certo andate in campo e vendicatevi abbiamo sempre perso loro bene sono motivati difesa energico credo in voi bene centrocampo vabbè faccio sempre le stesse cose queste ve le faccio vedere sempre ragazzi sono importanti finiamo il discorso della squadra entriamo in campo forza Sassuolo tre punti sono fondamentali come sempre dai vanno loro al dodicesimo con un fallo a trale per Cerri tocco per Gio Pedro Gio Pedro ancora per Cerri benissimo al fase metodo ruba un gran pallone non è fallo dietro per Ferrari con calma riniziamo da qua Ferrari allarga bene per Berardi che non è più scontento eh ragazzi ve lo dico quella è una notizia molto importante ma al cui fascia destra va via si fa tutta la fascia del cross sul secondo palo arriva di Francesco e grandissimo golla di Federico di Francesco gonfia lui la rete su un grandissimo cross di Malcui ragazzi grandissimo cross e golla stupendo del nostro Sassuolo col Cagliari guardiamo Malcui bellissimo se ne va gran cross sul secondo palo di Francesco arriva da dietro gran tiro imprendibile per il portiere Cragno 1-0 va Barreca batte la punizione per Locatelli 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 allarga ancora per Malcui va Malcui che azione il destro incredibile Cragno mette in angolo grandissima azione di Malcui fortissimo batte il falo tra le il Cagliari Brataric a Serna 1-2 fra i due giocatori Cepitelli la tocca piano per Joao Petro avanza Joao Petro attenzione bravo Alfa Semedo ruba un gran pallone di Francesco a Federico allarga per Berardi Berardi che golla 17esimo 2-0 che Sassuolo in 16 minuti due gol stupendi Di Francesco guardate che palla rubato per Alfa Semedo la tocca per Di Francesco che allarga perfettamente per Berardi e lui non sbaglia ragazzi questo è forte 2-0 falo ladrale va Malcui per Berardi dietro per Duncan e sfiora il palo falo ladrale per noi ancora Malcui che è veramente protagonista oggi De Tomas anticipato Brataric tocco per Cacciatore attenzione a questo Cagliari però Clavan ancora Cacciatore Clavan provano Joao Pedro per Bradaric per Castro allarga bene per Cacciatore attenzione va Malcui prova a fermarlo Ionita Joao Pedro pericoloso adesso il Cagliari Bradaric azione prolungata Castro per Cerri largo per Serna questa è una bella azione del Cagliari attenzione cross dentro e Pavoletti con una deviazione alla fine di un nostro difensore arriva la palla a lui e segna il primo gol in stagione 2-1 falo ladrale Barreca la batte lunga per Di Francesco di testa e Paracragno ancora falo ladrale Barreca la batte lunghissima De Tomas De Tomas anticipa Cragno 3-1 quarta rete stagione voleva giocare e se lo merita De Tomas pure lui 4-3-1 ragazzi stupendo Barreca guardate di testa De Tomas anticipa tutti e segna falo ladrale ancora noi Barreca 43esimo De Tomas tiene molto bene la palla dietro per Ferrari Ferrari dietro per Magnan va al portierino allarga dall'altra parte benissimo per Malcui che partita sta facendo sto giocatore Berardi bene per Locatelli Locatelli per Alfa Semedo Alfa Semedo avanza Alfa Semedo poi allarga per Barreca poteva anche tirare Barreca intanto al cross Alfa Semedo fuori quasi 47esimo batto loro però adesso Sierna Alfa Semedo e rilancia subito lungo per De Tomas va a prendere il pallone verso Cepitelli De Tomas prova il pressing Cragno forse fa una cavolata fa la cavolata e 4 a 1 De Tomas doppietta quinto con le stagione che cavolata che ha fatto il nostro Cragno riguardiamolo lancio lungo di del nostro Semedo Cepitelli la dà dietro al proprio portiere doveva solo ribatterla Cragno invece gioca con quel pallone e De Tomas lo punisce 4 a 1 grandissima prestazione grande partita Sassuolo ragazzi 16 a 3 tiri guardate 8 a 1 nello specchio questo 4 a 1 è fenomenale 56% possesso palla spogliatoio parla la squadra è energico e io gli dico sempre che va bene che state vincendo tuttavia potrebbe abbastare un'inezia perché la stessa prestazione ci porta un risultato diverso sfiduciato Berardi su queste cose è sempre sfiduciato ma fa niente gli altri vanno bene difesa energico penso possiate migliorare anche se è difficile migliorare rispetto bene adesso Berardi sta a posto attacco energico penso possiate dare di più ma come fanno a dare di più 4 a 1 ragazzi guardate tutti uno spettacolo stanno giocando dai calcio d'angolo va Domenico Berardi sul secondo palo De Tomas anticipato va Duncan la tocca per Alfa Semedo ancora Duncan il tiro e sfiora il palo amici chiari tolgo tolgo uno stanchissimo Locatelli ma anche Duncan non mi sta piacendo quello che sta giocando peggio con 660 al posto di Duncan andrei a mettere o Cassata o Johansson o Mazzitelli ma penso che mettiamo Cassata voglio mettere Cassata al posto di Duncan vediamo un po' se può giocare no come regista arretrato lo metto subito io a supporto va bene Cassata facciamo anche esordire lui e poi vi do togliere Locatelli come detto perché non mi sta piacendo entra Johansson al posto di Manuello Catelli per la stanchezza no perché non mi sta piacendo scusate e lui è un altro regista arretrato si facciavano giocare come regista arretrato Stefano Johansson sempre a supporto poi magari esce un Di Francesco come vedo a 62% qua anche Barreca vediamo hanno giocato tutti bene quindi avanti fallo calcio di punizione per noi Cassata per Ferrari Ferrari allarga benissimo per Domenico Berardi va Berardi allarga per Barreca dall'altra parte ma che gioco su le fasce bello il cross in mezzo cacciatore al fase medio prova il destro alto ottantesimo ultima sostituzione faccio uscire carissimi faccio uscire un grande Federico Di Francesco ed entra Matteo Politano gli diamo un po' di minuti a Politano farlo tra le per noi ormai siamo al 92esimo Malqui per De Tomas gran partita Malqui ancora verso De Tomas c'è Clavana per Pavoletti Cepitelli proviamo il pressing ma ancora bastoni di testa per Berardi che va via in velocità contro piede Berardi Domenico Domenico dall'altra parte c'è Politano Matteo Politano e sbaglia il gol del 5 a 1 ancora noi però 92esimo bastoni per Malqui che partita stupenda oggi Johansson Malqui allarga benissimo per Barreca forte pure sto Barreca mi è piaciuto va Barreca va Barreca in mezzo De Tomas e gran parata di Cragno ormai 93esimo fallo laterale dovrebbe fischiare finisce qui grande vittoria Sassuolo 4 a 1 sul Cagliari spettacolare i gol mi ricordo di Francesco Berardi doppietta di De Tomas per loro Pavoletti complimenti al Sassuolo veramente guardate le statistiche 27-8 i tiri 12-2 nello specchio della porta 52% possesso palla 79% i passaggi completati 81% contrasti 20 colpi di testa male ma non ce ne frega niente guardate i voti ma al cui 8.3 con l'assist Barreca uguale 8.3 con l'assist benissimo Bastione Ferrari oltre il 7 difesa stupenda proprio benissimo Berardi con quel gol 9.0 migliore in campo in assoluto bene De Tomas 8.8 con la doppietta io avrei fatto il migliore in campo De Tomas però dicono Berardi ma bene anche gli altri guardate Di Francesco 8.5 con gol e assist 7-1 Locatelli insomma gran partita loro malissimo Cragno malissimo Cio Pitelli e noi ragazzi dopo 8 gare voliamo terzi in classifica nuovamente guardate 16 punti però ci potrebbero sorpassare il Parma che se vince va addirittura a 17 guardate la Lazio il Napoli e guardate un po' la Juventus incredibilmente sta a 9 punti qui sotto la Roma a 10 guardate addirittura il Milan a 8 cioè veramente una classifica assurda però adesso ci facciamo anche la partita col Brescia penultimo in classifica forza Sassuolo taglie eccoci nuovamente davanti all'anteprima di Sassuolo Brescia amici miei siamo nettamente favoriti abbastanza 2.0 secondo Intervetten altalenante la nostra condizione mediocre da loro sono messi male in classifica a 19 come vedete noi siamo lì terzi in classifica un sogno vero e proprio se vinciamo possiamo recuperare il Napoli ma deve ancora giocare anche la Lazio per cui e anche l'Inter stessa qui stiamo lì a giocarci un posto nell'Europa che conta incredibile comunque l'allenatore Eugenio Corini punto di forza formazioni usate ha portato una media di 5 occasioni in più rispetto agli avversari nei 90 minuti giocati usando la formazione 4-3-1-2 stretta negli ultimi due anni potenziali punti debole il loro capocannoniere ovvero Alejandro Rudriquez che con una sola rete lo piazza al 41esimo posto nella competizione insomma malissimo livello di offensivo livello di colla inizio alle 12.30 quindi l'anticipo di domenica al Mapay Stadium nuovamente in casa 15.500 biglietti su 21.500 più viginoso 11 gradi Marco Di Bello è l'arbitro nelle 8 partite dirette in questa stagione 2 espulsioni 26 e ammunizioni ragazzi formazione è successa un'altra piccola tegola cosa succede? purtroppo si è fatto male a Japong anche lui per 3 mesi si è rotto la tibia ed eccolo qua il nostro terzino destro che potrebbe sostituire senza problemi ma al cui purtroppo si è infortunato per parecchio tempo questa è la formazione scelta oggi da me equilibrata come sempre con ancora Magnani in porta da ancora fiducia ma al cui a destra bastoni Magnani e non Ferrari faccio riposare Ferrari giocherà la prossima contro la Sampdoria e Spinazzola a sinistra rigioga Spinazzola e non Barreca perché voglio più gioco offensivo rispetto a Barreca Duncan davanti alla difesa che non è più scontento perché il Real Madrid non è più su Duncan quindi lui adesso è contento di rimanere al Sassuolo questa è un'altra notizia molto importante con Locatelli Johansen e non il nostro Semeto giocherà la prossima Berardi a destra Politano torna a titolare a sinistra Haaland e non De Tomas facciamo un po' di turnover mettiamo anche il ragazzo di 19 anni davanti ora formazione Brescia Brescia gioca a specchio come noi ragazzi 4-3-3 col mediano con Alfonso in porta Sabelli Marrone Cistana Martella in difesa Smith davanti alla difesa con Endoi Bandinelli due centripeze centrali Morosini a destra Donnarum a sinistra Torregrossa davanti questa è una formazione veramente da serie B però eh ragazzi bisogna stare sempre molto attenti ma sono fiducioso parla alla squadra energico entrate in campo riprendete da dove avete finito l'ultima partita per forza motivati però solo due non va bene energico penso possiedere molto di più ok con questa si fomentano insomma quasi tutti va bene così sono motivati ascoltano attentamente entriamo in campo forza Sasol dai eh subito calcio angolo per noi Politano al 14 esimo in mezzo Aland traversa incredibile va il norvegese allarga per Politano va Matteo va Matteo va Matteo la velocità in mezzo per Aland Aland e c'è il gol il vantaggio Sassuolo a 1 Brescia a 0 Alfonso non trattiene il gol di Aland tra le linee bellissimo sto gol assist di Politano e gran gol di Alanda eh gli attaccanti girano eh ragazzi sia gli esterni che gli attaccanti centrali molto bene guarda Politano grandissimo qui se ne va via Alanda con la forza la mette dentro grande ancora noi però anzi no Torregrossa ruba un buon pallone Smith escono loro Bandinelli però guardate Alanda come recupera il parone Berardi Berardi il tiro sfiora il palo fa l'altra l'Espinazzola batte molto lungo Berardi anticipato Duncan vediamo cosa fa Duncan il tiro è il miracolo di Alfonso che occasione per Duncan finisce un bel primo tempo del nostro Sassuolo ma siamo solo in vantaggio per 1 a 0 contro il Brescia gol di Aland al 28esimo l'avete visto abbiamo tanti cartellini già di 3 proprio Aland Duncan e Johansen il loro territorio è grossa però guardate le statistiche 17 a 4 8 a 1 nello specchio i tiri 55% possesso palla ci meritavamo sicuramente almeno il raddoppio parla la squadra come al solito energico eh dobbiamo evitare di rilassarci stressato magnano come fa a essere stressato comunque vediamo io un po' più di fiducia energico potete dare molto di più centrocampo ancora potete dare molto di più stressato solamente il mio portiere ma va bene così finiamo il discorso alla squadra stanno giocando tutti bene tranne un Locatelli 660 650 Spinazzola sta giocando male vabbè comunque andiamo avanti con questa formazione 61esimo amici escono due giocatori Locatelli e Spinazzola non mi sono piaciuti quindi entra Barreca al posto di Spinazzola come terzino e al posto di Locatelli ci mettiamo il nostro Alfa Semedo al posto di Manuel Locatelli come centrocampista di quantità bene così 81esimo facciamo un'ultima sostituzione loro hanno messo adesso prima un 5-3-2 adesso hanno cambiato con un 4-3-1-2 come vedete hanno messo anche Morosini in trequartista andremo solamente a chiuderli Politano è molto stanco me lo voglio tenere per la prossima quindi esce Politano entra il nostro Federico Di Francesco siamo a 93-30 non è successo nulla ho messo anche difensivo agli ultimi minuti però Bandini era meglio ma Duncan recupera un gran palone Magnani con calma dietro a Bastoni non facciamo calavate Magnanna stai calma allarga il gioco grazie benissimo per Barreca dietro per Magnani teniamo il pallone ancora dietro per Magnanna va il francese allarga dall'altra parte per Malcui benissimo sto Sassuolo tiene palla va Malcui grande corsa di Malcui prova lui in mezzo di Francesco dall'altra parte prova il cross lo dietro e finisce finisce ragazzi 1-0 grande vittoria altri tre punti importantissimi veramente contento di questa squadra veramente forti ragazzi siamo primi in classifica vabbè devono ancora giocare gli altri 19 punti incredibile Sassuolo bellissima gara il gol di Alan ma bellissima la gara Sassuolo che vince facendo un gioco convincente guardate 25 a 6 tiri 10 a 2 non lo specchio 60% possesso palla 85% passaggi completati 88% contrasti vinti e colpi di testa anche migliori 62% benissimo Alan Politano migliore in campo con l'assist bene bastoni bene tutta la difesa hanno fatto la loro partita se la sono giocata molto bene 3 punti andiamo avanti ora ci manca l'ultima sfida del trettico ovvero Sampadoria Sassuolo dai terza e ultima partita amici Sampadoria Sassuolo leggermente favorita la Sampadoria beh ci sta comunque altalenante la condizione per entrambi le squadre nella scorsa stagione una vittoria per la Sampadoria è un pareggio non ci porta bene questa Sampadoria Marco Giampaolo è l'allenatore rimasto qui alla Sampadoria punto di forza e cross 7 su un totale di 16 assist nelle ultime 20 partite sono arrivati da cross quindi sono forti sui cross potenziali punti deboli colpi di testa questa squadra è lagunosa appunto nel colpo di testa inizio ore 21 questo ragazzi siamo a mercoledì 30 tre giorni dopo la partita è un infrasettimanale appunto alle 21 Luigi Ferraris appunto di Genova 18.200 biglietti su 36.500 più viginoso 14 gradi Giampaolo Calvarese l'arbitro tre partite dirette in questa stagione un'espulsione 13 ammunizioni formazione subito ragazzi altro mischione da parte del vostro lollo secondo me in questa partita voglio mettere questa squadra che secondo me è adatta a giocarsi le sue chance contro la Sampdoria Magnani in porta lo confermiamo perché sta giocando bene ma qui a destra non abbiamo sostituti deve giocare sempre questo ragazzo con bastoni Ferrari Barreca in difesa quindi Barreca e non Spinazzola perché Barreca è più difensivo Duncan davanti alla difesa con Locatelli e Semedo torna Semedo Berardi a destra Pulitano a sinistra e Di Tomassa torna come punta al posto di Haaland Sampdoria 4-4-2 a Roma come vedete con Audero in porta Tomic Gomez Andersen Murru in difesa Ekdal davanti alla difesa con Linetti e Fred i due centriampisti di centrale Praet trequartista dietro a Quagliarella e Konacchi squadra veramente forte temibile molto 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 soprattutto in trasferta siamo quindi è temibile spogliatoio spogliatoio parla la squadra energico qui per forza dobbiamo andare a vendicare l'ultima volta contro la Sampdoria dove abbiamo perso quindi vendichiamola bene sono motivati difesa energico penso possiate dare molto di più dai fomentatevi ragazzi anche se si gioca ogni tre giorni la stanchezza non ci deve fermare assolutamente spero possa ripeterti bene così finiamo il discorso alla squadra e ora entriamo in campo a Genova dai battiamo noi un calcio in funzione dalla tre quarti Malqui per Duncan Duncan avanza Duncan allarga bene per Barreca si fa vedere Barreca bello il cross dentro anticipati Politano per di testa ancora Praet arriva Locatelli la botta che gol Manuel Locatelli fa dei gol eccezionali da fuori aria veramente forte ragazzi compratelo quarta rete stagione 1-0 Sassuolo qui a Genova contro la Doria Barreca fa un bel cross ribattuto da Anderson ancora Politano di testa Gomez in qualche modo Locatelli arriva su questo pallone gran golla ancora noi ragazzi fallo tra le Malqui dentro per De Tomas anticipato Duncan vediamo se tira da fuori Duncan a giro e sfiora il palo ancora calcio d'angolo solo noi ragazzi in questo primo tempo Politano sul secondo palo De Tomas anticipato Ferrari la difensore centrale Ferrari la gioca per Alfa Semedo il tiro fuori finisce un gran bel primo tempo amici veramente un gran bel primo tempo però il Sassuolo solo azioni nostre abbiamo giocato bene siamo in vantaggio con un gran gol di Locatelli al dodicesimo 12 a 3 tiri 2 a 2 nello specchio però il possesso parla maggiore il nostro 56% sta squadra sta giocando come voglio io spogliato io rimane sempre equilibrata non ci difendiamo per il momento parla la squadra e energico ovviamente dobbiamo evitare di rilassarci stressato Antonio Barreca ma non dovete essere stressati ragazzi dovete fomentarvi dai difesa energico potete dare molto di più niente sempre stressato Barreca stessa cosa a centro campo energico puoi dare molto di più anche l'attaccante infatti i voti lì davanti non mi piacciono soprattutto non mi piace 6.50 a munito potrebbe uscire 6.50 pure il nostro De Tomas e 6.60 a Berardi forse un po' di stanchezza vabbè secondo tempo farò laterale della nostra tre quarti batte mal qui per Duncan si è fatto anticipare da Praet però va Praet grandestro fuori sessantesimo prima sostituzione eccolo là non l'avevo visto si è fatto male potenziale infortuna lingue proprio Barreca ragazzi esce lui con 6.90 ma deve uscire entra Spinazzola mi dispiace non l'avrei mai fatto uscire esce pure però Alfa Semedo a munito poi uscirà De Tomas ragazzi sono quelli che stanno giocando peggio Semedo entra al suo posto Stefan Johansen punizione per loro va Quagliarella pericolosissimo che gol ha fatto Magnan non trattiene pareggio incredibile da Sampadora la prima vera occasione grandissimo gol di Quagliarella Magnan qui fa la cavolata Magnan mio mi sa che tu non rientri in campo guardate qua sul palo suo eh non la trattiene 1-1 ancora punizione Quagliarella alta stavolta ultima sostituzione ragazzi entra Haaland al posto di De Tomas veramente male oggi veramente molto male 6.30 calcio d'angolo però per noi Politano l'87 bastonino arriva arriva a Berardi 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 il tiro ribattuto e poi non contro piede loro Murru attenzione al contro piede no anticipati molto bene Spinazzola per Politano ancora per Spina tocco per Ferrari largo per Politano siamo all'ottantottesimo Politano va via Politano Politano la tocca per Johansson bene per Locatelli va Manuel ancora il destro e sfiora la traversa 95esimo erano 5 minuti di recupero Murru e finisce qua ragazzi un pareggio a Genova ci sta peccato abbiamo giocato secondo me molto meglio della Sampatoria loro su quel calcio di punizione hanno fatto un bel gol dove Magnano non ha trattenuto pure si ha 6.9 vedo comunque guardiamo subito le statistiche sono più importanti va bene anche il pareggio potrebbe esserci la vittoria peccato veramente 22 a 7 tiri 8 a 3 nello specchio della porta siamo stati veramente grandi 54% possesso palla 78% passaggi completati 89% contrasti vinti bene anche i colpi di testa migliori in campo ovviamente per noi 8.3 è il nostro Manuel Locatelli con un gran golla hanno giocato tutti abbastanza bene in difesa e a centro campo come vedete tranne Alfa Semedo bene Politano bene Berardi maledetto massa e poi Alan non ha avuto tempo per esempio per entrare in forma per avere un voto Quagliarella miro in campo in assoluto con l'8.3 con quel pareggio su punizione ma giusto su punizione perché non hanno fatto nulla ragazzi ora facciamo come al solito un'analisi finale di tutto il video delle tre partite e poi i prossimi appuntamenti dai bene carissimi siamo qua per fare l'analisi su queste tre ottime partite del nostro Sassuolo due vittorie un pareggio abbiamo fatto ben sette punti siamo là con dieci cari a venti punti guardate sei vittorie due pareggi due sconfitte un inizio del Sassuolo che nemmeno io mi aspettavo veramente bravi complimenti dobbiamo continuare così ragazzi per forza con le prossime partite che sono in casa con la spalla in trasferta con la Salernitana e poi in casa con la Juventus certo sarà molto complicata però sono anche partite dove possiamo fare punti sia con la spalla che con la Salernitana secondo me siamo più forti di entrambe con la Juventus tenteremo di fare un mezzo miracolo vedremo cosa succede e vi dico pure che l'infortunio ragazzi di Barreca è solamente di due giorni per fortuna solo un piccolo indolenzimento muscolare non c'è problema meglio così sono contento se vi è piaciuto questo video ovviamente like e condivisione condividete con i vostri amici cresciamo come come canale mi raccomando lo stiamo facendo piano piano giorno per giorno un pochino alla volta stiamo crescendo sono contento come sempre del vostro supporto oppure se siamo in un periodo estivo voi ci siete ci sono i commenti ci sono i vostri like le visualizzazioni insomma mi piace sta andando avanti bene questo canale ci saranno sorprese quindi rimanete sintonizzati mi raccomando già ve lo spiegate sorprese molto interessanti ci vediamo alla prossima con il vostro Mr. Lollo con il Sassuolo e col Football Manager Club ragazzi alla prossima ciao ciao ciao